Oggi andremo a recensire un nuovo prodotto, parliamo di un SSD della Kingian, in particolar modo il modello S280. La Kingian è una marca poco nota, poco conosciuta, sicuramente meno blasonata, delle più ben note Samsung e SanDisk. Il prodotto in questione, ovvero quello che sto a mostrarvi, è il modello da 240 GB con una velocità in lettura di circa 500 MB per secondo e di lettura all'incirca 380. L'interfaccia è la classica SATA 3. La Kingian vende questo prodotto su Amazon circa 55-58€, ovviamente pensione inclusa. Questo è un prezzo effettivamente inferiore di circa 10-20€ a quelli che sono gli SSD più blasonati, presente di questa fascia di capacità. Ovviamente per il prezzo che abbiamo dobbiamo anche saperci accontentare di quelle che sono le prestazioni di questo prodotto rispetto a questi modelli più nodi e diffusi. Nel momento in cui andiamo a aprire la confezione di questo prodotto, notiamo subito che c'è poca roba, oltre all'SSD, troviamo 4 biti in dotazione per il fissaggio, mentre non troviamo nient'altro come software, per esempio gestionali o manualistica o altro materiale cartaceo che invece è spesso presente nei modelli della stessa capacità ma di quelle ditte, appunto più grandi e ben più blasonate. Andiamo a parlare di quelle che sono le fasce di capacità di questo SSD. La fascia più piccola è da 120GB, parliamo ovviamente sempre del modello S280, abbiamo poi il modello da 240GB che è quello che appunto stiamo andando a esaminare e infine abbiamo il modello da 480GB che rappresenta il modello con maggiore capacità finora prodotta dalla Kingdian. Aggiungiamo infine che Kingdian offre una garanzia di 3 anni sul suo prodotto. È arrivato quindi il momento di effettuare i test su questo prodotto che confronteremo con un Samsung EVO 850 da 250GB già in mio possesso. Ho effettuato i test di Bench con Crystal Disk Mark ed ecco appunto i risultati. Effettuati i test vediamo subito che il Samsung EVO 850 è di netto superiore al Kingdian S280 a giustificare quindi la differenza di prezzo che c'è tra i due dodotti. Prima di concludere col video volevo esporre quello che è il mio punto di vista. In effetti abbiamo visto che c'è una bella differenza tra le prestazioni di un modello top di gamma e di un modello che è venduto ormai più di ogni altro tra gli SSD ovvero l'850. Il Kingdian tuttavia nonostante il prezzo ridotto e nonostante appunto non sia una marca nota si difende bene quindi lo posso consigliare a qualcuno che voglia approcciarsi al mondo degli SSD senza dover spendere una cifra così alta come quella invece proposta per i Samsung. Questo è tutto, io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito, mi raccomando di lasciare il mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Grazie ancora di tutto e alla prossima!